Raffaele Calabretta Raffaele Calabretta è qui a giocare un main event grazie a una classifica che lui ha scalato ti senti un po' quello che ha vinto lo scudetto no? diciamo di sì, è stata abbastanza dura e anche sorprendente come risultato in quanto è inaspettato, in quanto è stata una promozione appunto della BetPro che voglio ringraziare che a livello improvviso ci ha fatto questa sorpresa cioè i migliori classificati durante l'anno con una classifica annuale hanno partecipato a un sit and go e il vincitore ha ottenuto appunto questa opportunità è stata una grande opportunità di partecipare a degli eventi live da loro sponsorizzati solo uno vinceva? sì sì, solo uno vinceva come si affronta questo sit and go, come si dice in gergo, winner takes all? allora si affronta, direi si deve affrontare innanzitutto in maniera molto tranquilla in quanto il gioco online è diverso dal gioco reale quindi le mani sono molto più, si race maggiormente rispetto a questo qua quindi in maniera molto più rapida rispetto al gioco live e quindi ci vuole pazienza, molta pazienza e dopo tre ore di dura battaglia con grandi campioni per fortuna è andata bene adesso qui con un sogno? un sogno, sì direi sì, proprio un sogno e una speranza di dimostrare appunto a chi mi ha dato l'opportunità di valere questa sponsorizzazione quindi un grande sogno come stanno andando materialmente le cose? ma adesso bene, diciamo ancora siamo a livelli molto bassi a livelli di blind, quindi race però ci stiamo mantenendo a buon livello anche qui quant'è l'everage? adesso è 70 quindi ancora bisogna insistere quindi soddisfatto dell'esperienza? ci riproverai? sicuramente sì è una grande esperienza è una grande opportunità e voglio ancora ringraziare la Betty Pro che mi sta concedendo questa grande opportunità questo grande sogno bocca al lupo crefi è una grande opportunità è una grande opportunità è una grande opportunità è una grande opportunità è una grande opportunità